Allora, ben trovati, imprenditori che cambiano, mercoledì pomeriggio. Ciao, Michi. Ciao, Fra. Buon mercoledì. Business Cafè è il nostro appuntamento del mercoledì per stare insieme 15-20 minuti e condividere un po' della nostra esperienza quotidiana nell'affiancamento imprenditoriale. Sì, assolutamente sì. Fra l'altro, la scorsa settimana abbiamo proprio introdotto il tema dell'organizzazione aziendale e abbiamo condiviso l'importanza di avere un modello organizzativo nel quale le persone sanno cosa devono fare, come devono farle e dentro quando. Sembra un concetto banale, ma vi assicuro che ogni giorno vediamo realtà in cui non c'è standardizzazione nel lavoro, mancano i processi e le procedure che rendono fluido il lavoro. standardizzazione non deve sembrare qualcosa che va a bloccare la creatività e la libertà magari operativa, anzi va a ottimizzarla proprio al meglio. In più abbiamo anche aggiunto la teoria delle quattro V. La scorsa settimana abbiamo proprio detto il cosa, il perché, il dove e il quando che fanno parte di un approccio analitico orientato proprio alla risoluzione dei problemi che supporta poi un modello organizzato di azienda. Fra l'altro, se vi siete persi la diretta, andate a recuperarla nel nostro canale YouTube nella sessione delle live, quindi nel nostro canale Imprenditori che cambiano. E oggi quindi continuiamo sul tema dell'organizzazione, come anticipavi un po' tu, rispondendo proprio ad una domanda, come posso strutturare in maniera organizzata la mia azienda, che cosa è necessario avere e fare affinché il lavoro sia semplicemente più fluido e più armonico. E quindi inizio con il chiedervi che cosa succede quando siete assenti. L'azienda funziona senza intoppi oppure ha delle difficoltà e quindi magari di conseguenza si bloccano dei processi. Se sei spesso tu la persona chiamata continuamente a dover risolvere i problemi in azienda o magari sei chiamato in particolare quando le situazioni sono più complesse, oppure di nuovo se ti è mai capitato di avere dei problemi di comunicazione con il tuo team, magari tu hai in mente delle priorità ma ti rendi conto, invece che le persone che collaborano con te ne hanno in mente delle altre. Quindi è un po' come andare a ritmi diversi. Ecco, questi e altri problemi molto simili di carattere organizzativo, noi li incontriamo veramente ogni giorno durante il nostro lavoro. Un po' quello che anticipavi tu prima, Michi. perché sono tipici delle piccole e medie imprese che hanno una scarsa o quasi assente tante volte managerialità e il sistema di lavoro non è spesso tracciato attraverso procedure e flussi di lavoro che creano quella sistematizzazione e quella standardizzazione che permette di lavorare in maniera più fluida. C'è un'errata convinzione spesso dietro a questo tema che è quella che per essere agili e veloci non si debba essere eccessivamente strutturati e organizzati. Soprattutto nelle piccole e medie imprese c'è un po' questo di retropensiero che noi ritroviamo, no? Cioè il fatto di se sono troppo organizzato non riesco a stare sul pezzo. In realtà una struttura aziendale più organizzata, al contrario di quello che comunemente si pensa, può essere un vero e proprio motore di agilità e non un freno. L'associazione tra organizzazione e un peso eccessivo per l'azienda è davvero un grosso equivoco che dobbiamo imparare a dissipare e che noi facciamo praticamente ogni giorno. Quindi implementare un sistema azienda organizzato offre una serie di vantaggi e sono vantaggi davvero tangibili. Uno fra tutti, l'ottimizzazione dei processi operativi. Quindi questo permette ad un'azienda di funzionare, come dicevamo prima, in modo più fluido, più efficiente, senza intoppi, senza continue interruzioni. Fornisce a tutti una chiarezza sui compiti e sulle responsabilità di ciascun dipendente. E qui c'è una riduzione anche abbastanza importante delle scuse o degli alibi o di tutte quelle situazioni nelle quali sono certa, molti di voi si saranno ritrovati, del tipo, ah ma non sapevo come dovevo farlo, non avevo capito che era compito mio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un tipo di attività, di organizzazione strutturata promuove la responsabilità individuale e anche una cultura che è orientata al rendimento. Altro elemento vantaggio tangibile, processi, procedure di lavoro tracciati semplificano l'integrazione, l'introduzione dei nuovi membri del team. Anche questo è un elemento fondamentale, soprattutto adesso siamo in un periodo dove in alcune aziende il turnover è alto e quindi ridurre i tempi di adattamento e di inserimento delle persone è fondamentale e questo si può fare solo se abbiamo tracciato il modo in cui operiamo e possiamo mostrarlo alle persone. Infine, forse il più importante fra tutti i vantaggi che vi condivido oggi, è l'importanza per l'imprenditore di poter godere di maggiore flessibilità e libertà, perché il sistema è progettato affinché possa funzionare senza richiedere il costante e continuo intervento o supervisione. Quindi immaginate l'azienda come una casa solida dove le fondamenta sono costituite dalle persone, dai processi e dalle procedure. Le persone sono la linfa vitale, il motore che fa funzionare ogni aspetto dell'azienda, ma per far sì che questa casa sia solida e prosperi nel tempo, ogni membro del team deve avere chiarezza assoluta sul proprio ruolo, sulle proprie responsabilità e su ciò che ci si aspetta che produca. Questa chiarezza non è solo una preferenza, ma è un vero e proprio imperativo assoluto per il successo aziendale. È ciò che alimenta la fiducia, la produttività e la realizzazione di obiettivi ambiziosi un po' per tutti. Senza questa chiarezza le fondamenta trapallano e le risorse vengono sprecate, sia in termini di persone che in termini di cose e strumenti che abbiamo a disposizione. Perciò ricordiamoci sempre che le persone sono le fondamenta e la chiarezza è la colla che tiene insieme ogni pezzo di questa casa-azienda, come l'abbiamo definita oggi. Assolutamente sì. Fra l'altro fra quello che tu dici, noi abbiamo, non lo diciamo solo per pura teoria, ma abbiamo proprio delle testimonianze anche del casi studio sul nostro sito, che potete vedere, che vanno a certificare proprio questo. Infatti oggi vediamo anche i dieci strumenti che le aziende di tutte le dimensioni dovrebbero implementare per creare poi questa chiarezza all'interno del team. Il primo punto è sicuramente avere un funzionigramma. Il funzionigramma è quello strumento che definisce proprio il ruolo e le responsabilità di ogni funzione. Definisce anche l'aspettativa sull'obiettivo di valori che ogni funzione è chiamata a raggiungere, le mansioni e le metriche con le quali il lavoro poi verrà misurato. Il secondo punto che non può mancare è un mansionario, quindi un elenco dettagliato delle mansioni e delle attività specifiche che un dipendente deve svolgere all'interno del proprio ruolo. E a volte i mansionari sono all'interno della job description che è poi il documento che fornisce una panoramica dettagliata dei compiti, delle responsabilità, delle competenze e anche delle qualifiche che sono richieste per una specifica posizione lavorativa. Infatti la job description è spesso utilizzata nella fase di selezione del personale e deve anche essere condivisa con i collaboratori. Il terzo punto è avere un organigramma aziendale. Ora eravamo più per tutti liberi, ognuno fa la propria parte, ma è importante e molto utile poter mostrare diversi ruoli all'interno dell'organizzazione e anche la relazione fra i vari ruoli che poi possono portare all'ottenimento del risultato. Come quarto punto abbiamo il bilancio delle competenze, che è uno strumento che noi usiamo spesso proprio per aiutare l'imprenditore ad analizzare quali competenze hanno realmente le persone del team e come si possono nel caso migliorare. Il punto 5 che vi suggerisco è il fatto di attuare una matrice delle responsabilità che si chiama RACI, diciamo l'abbreviazione è Responsibility Assignment Matrix, è uno strumento che aiuta proprio a chiarire le responsabilità di un team e nella tabella che si costruisce si vanno poi a definire i diversi livelli di responsabilità su un progetto per evitare anche confusione e sovrapposizione di responsabilità. Al punto 6 vi suggerisco quelli che vengono definiti i flussogrammi di processo che sono proprio dei diagrammi di flusso che visualizzano le sequenze di passaggi o attività all'interno di un processo aziendale. Successivamente andrei ad inserire quelle che sono le procedure, quindi quelle che sono le istruzioni, passo passo su come svolgere delle specifiche attività o dei compiti garantendo poi uniformità nelle operazioni che vengono fatte. Come punto 8 c'è sicuramente la parte dei manuali operativi, quindi un documento che viene fatto in modo molto dettagliato dove i processi e le procedure aziendali sono ben esplicitate. Sicuramente è importante avere anche un software di gestione del progetto, ad esempio quello che è Slack, in questo caso Asana o Trello, cioè sono tutti degli strumenti che consentono di tenere traccia del lavoro svolto da ciascun membro del team e di garantire che tutti siano a conoscenza dei loro compiti. Questo è qualcosa che spesso ci viene detto ma non c'è tempo per aggiornare, però poi i ritardi avvengono proprio per una mancanza di riallineamento di dove è arrivato, a che punto è arrivato il progetto e quindi se ci sono appunto ruoli diversi o uffici diversi che devono intervenire, il fatto di poter avere un monitoraggio dell'avanzamento è ottimale. E come ultimo punto direi avere un piano di sviluppo proprio del personale. questi piani aiutano proprio i dipendenti anche a chiarire quelle che sono le aspettative riguardo alla propria crescita e allo sviluppo professionale all'interno dell'organizzazione e questi piani possono anche rincludere degli obiettivi proprio di formazione, di esperienze, di apprendimento e anche opportunità di sviluppo delle competenze o dei piani di incentivi, del welfare, eccetera. Quindi questi sono un po' tutti gli step che vanno ad integrare la voglia di crescita che comunque le persone hanno all'interno delle aziende e questo è emerso moltissimo dalle analisi che stiamo facendo come marketing scientifico interno ultimamente. Quindi in aggiunta fra l'altro agli strumenti un'altra cosa che suggerisco e che non può mancare sono delle sessioni proprio infatti di formazione e di orientamento quelli che sono gli incontri one to one sicuramente utili proprio a spiegare chiaramente i ruoli e le responsabilità a quelli che sono magari i nuovi membri del team oppure sono anche azioni utili per fissare gli obiettivi annuali o per fare la valutazione anche dei risultati raggiunti. Anche questo è qualcosa che all'interno dei team spessissimo ci viene richiesto ed è altrettanto importante che i ruoli e le responsabilità siano anche periodicamente rivisti e aggiornati. Non può essere una cosa che è così e rimane standard così per sempre ma va adattato alle esigenze in evoluzione dell'azienda e questo serve proprio a garantire che siano attuali e soprattutto ancora chiari e pertinenti a quello che è l'avanzamento appunto settoriale. Sicuramente quello che io vi ho detto ora in questi dieci punti può sembrare tanto lavoro ma vi assicuro che noi sviluppiamo questo percorso in quattro mesi nei quali affianchiamo proprio l'imprenditore alla creazione di un modello organizzativo chiaro ed efficace su quelle che sono le sue specifiche esigenze. Tra l'altro lo scorso anno abbiamo affiancato un'azienda veneta che si occupa di fotovoltaico e abbiamo proprio lavorato sul tracciare sia l'organizzazione che è servita a chiarire le funzioni le responsabilità di ciascuno sia a tracciare quelli che erano poi i processi di lavoro. Oggi sono molto più sereni in caso fra l'altro di nuovi ingressi di personale e anche di sostituzione di personale questo perché il processo fra l'altro di inserimento è diventato anche molto più semplice orientato fra l'altro a quello che è l'introduzione e la necessità di copertura del ruolo specifico e le informazioni soprattutto non vanno disperse con la persona che lascia l'azienda quindi quelle che possono essere magari dei pensionamenti o semplicemente dei cambi di azienda appunto non portano più via tutto quello che è stato diciamo il lavoro svolto con quella persona e da quella persona. Bene, quindi penso che per oggi abbiamo risposto ampiamente Michi alla domanda come faccio a creare un sistema azienda organizzato attraverso i dieci punti che tu hai illustrato abbiamo proprio vi abbiamo anche un po' raccontato il metodo che noi utilizziamo per mettere quelle fondamenta di cui vi parlavo prima che è la casa azienda con una struttura solida capace poi di accogliere anche maggiori clienti più fatturato e più come dire anche accogliere più lavoro è necessario avere delle fondamenta stabili per farlo. Direi che a questo punto Michi ci possiamo dare appuntamento mercoledì prossimo. Assolutamente sì e se volete sapere di più chiaramente contattatici al link che trovate sempre sotto la nostra diretta. Un buon mercoledì. Buona settimana.